ok ciao a tutti ragazzi sono uno di uno e quando arriva uno di uno questi si disattivano, è strano c'ho 15 kill e niente c'è il tipo nascosto che non capisco dove è aspetta c'era forte e mi attaccava subito ah il solito camper della situazione ciao come va la visione ciao un attimo, sono uno di uno io un secondo aspen aspen ti sento basso va bene 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 siiii vittoria dimmi perchè no no perchè vabbè ok ok ho fatto vittoria ho fatto vittoria con 12 kill e schiera va bene 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 va bene